E lieve calo il dato relativo alla curva dei nuovi positivi in provincia di Siracusa. Rispetto a ieri, infatti, sono 95 i contagi, 6 in meno rispetto al dato diffuso dalla regione siciliana. La statistica dei ricoveri oggi per coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede una flessione complessiva di tre unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Non si assiste ad alcun incremento nelle parti di terapia intensiva che complessivamente vedono in cura 243 persone. Il numero dei guariti è pari a 972, 48 i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1.306, i tamponi molecolari processati sono stati 9.936. Questo è il report dei contagi nelle province 76 Agrigento, 63 Caltanissetta, 324 Catania, 20 Enna, 160 Messina, 313 Palermo, 79 Ragusa, 95 Siracusa e 158 Trapani. Prosegue intanto il drive-in dei tamponi rapidi nella provincia di Siracusa per la popolazione scolastica e non solo. È in corso l'organizzazione di altri appuntamenti nei diversi comuni. Sabato, 28 novembre, sarà la volta di Floridia dalle 9 alle 16 nel piazzale del Cioo Scientifico Leonardo da Vinci. Domenica 29 allo stesso orario, drive-in a Priolo Gargallo, in piazza dell'autonomia comunale. Dall'inizio della campagna di screening l'ASP di Siracusa ha eseguito complessivamente 12.287 tamponi rapidi, 68 sono risultati positivi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti